Salve a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi parliamo dell'M4A3, forse la variante più nota dello Sherman, reso ancora più nota dal film Fury, che sicuramente conoscerete, e in cui, tra parentesi, non compare un M4A3E8, bensì un M4A2E8. Durante la guerra, la richiesta per motori con cui equipaggiare i carri andava via via aumentando, e questo, unito all'incapacità dell'industria di serie di trattati fa bisogno, portò alla necessità di trovare un nuovo propulsore che potesse andare a sopperire, appunto, a questa mancanza. Nel tardo 41, divenne disponibile quello che sarà destinato a diventare il motore prediletto dallo US Army, ovvero una versione modificata del motore aeronautico Ford 8 cilindri alimentato a benzina, con una potenza di 500 CV e successivamente identificato come Ford GAA. Dopo diversi test eseguiti montando il propulsore su un M3L, esemplare che verrà poi rinominato come M3E1, esso risultò senza ombra di dubbio il miglior motore per carri armati disponibile all'epoca, quantomeno negli Stati Uniti, risultando estremamente compatto e avendo un'elevata potenza, soprattutto in relazione al rapporto peso-potenza. Giusto per dare un'idea delle ottime qualità del motore, basti pensare che in uno dei test il Ford GAA venne fatto correre a ciclo continuo per 85 ore, senza alcun guasto o danno di alcun tipo. Visti gli ottimi risultati del propulsore, nel gennaio del 42 venne autorizzata l'acquisizione e l'installazione del motore su scafo Sherman, identificando poi questa versione come M4A3, carro che poi gli inglesi identificheranno invece come Sherman 4. Questa nuova versione diventerà il modello base dell'esercito americano per non solo durante la guerra, ma anche successivamente, per oltre un decennio dopo la guerra, venendo impiegato ad esempio banalmente anche nella guerra di Corea. Il primo carro fu ultimato nel maggio del 42, seguito entro breve da altri due esemplari. Questi tre carri verranno poi inviati al General Motors Proving Ground, dove verranno testati cinque motori Ford GAA, ognuno dei quali con qualche modifica secondaria, al fine di valutare possibili migliorie da applicare al già di per sé ottimo motore Ford, per poi essere definitivamente accettato. Oltre al diverso motore, il carro fu chiaramente soggetto a tutte quelle modifiche che abbiamo già visto nelle precedenti versioni, quindi le piazze a 25 mm sui lati dello scafo a protezione delle munizioni, sul lato destro della torretta e di fronte alle motore di pilota e mitragliere. Quest'ultima modifica chiaramente vale soltanto come abbiamo visto per gli small hatches. Ovviamente anche per l'M4A3 esiste la distinzione tra M4A3 Dry Stowage e M4A3 Wet Stowage. Alla produzione dell'M4A3 parteciparono la Ford, che produsse 1.690 esemplari, tutti small hatches e dry storage, tra giugno del 42 e settembre del 43, la Chrysler, che produsse 500 M4A3 con il 105 mm e sospensioni VVSS, 2.539 M4A3 con il 105 e sospensioni HVSS e 4.117 M4A3 con il 76 mm M1. Il tutto tra il febbraio del 44 e l'aprile del 45. Inoltre alla produzione partecipò anche la Fisher Tank Anselal, che produsse 3071 M4A3 Wet Stowage, armato con il 75 mm M3, e 254 M4A3 E2 Jumbo, tra il febbraio del 44 e il marzo del 45. Come abbiamo appena visto, su scafo M4A3 vennero usati una vastissima gamba di armamenti diversi, tutti già visti nelle precedenti versioni. Abbiamo quindi l'M4A3 armato con il 76 mm M1, carro che rappresentò la colonna portante delle forze armate americane anche dopo la guerra, vedendo un largo impiego in Corea negli anni 50. Come abbiamo già visto, il 76 mm non venne particolarmente apprezzato durante la guerra, in quanto il 75 mm era ritenuto più che sufficiente per le principali minacce che il carro si trovava ad affrontare nella maggior parte dei casi, quindi fanteria o Panzer IV o Panzer III. Sempre parlando della versione col 76 mm, va sottolineato come le prime versioni montassero le sospensioni VVSS, sospensioni che verranno poi successivamente sostituite con HVSS e cingoli più larghi, oltre anche a vedere l'aggiornamento dell'armamento, che passerà dal 76 mm M1A1 al 76 mm M1A1C, meglio noto come M1A2, da non confondere chiaramente con l'Abrams, e riconoscibile per lo spegne in fiamma alla fine della canna. Altra versione che abbiamo già conosciuto è quella armata con il 105 mm, carro che si rieverò particolarmente efficace nel supporto della fanteria, e soprattutto contro postazioni nemiche fisse grazie all'alto potenziale delle munizioni HE utilizzate dall'obice M4. Anche qui abbiamo alcune modifiche intercorse durante la produzione, come l'installazione della Vision Cupola, assente nei primi esemplari, a causa della ridotta disponibilità di queste cuple riservate alle torrette T23 armate con i 76 mm, oppure, come la precedente variante con i 76 mm, abbiamo il passaggio dalle VVSS alle HVSS, con annessi cingoli allargati. Tuttavia, quando si parla di M4A3, è impossibile non parlare del cosiddetto Jumbo, una delle varianti di Sherman decisamente più note, nonostante il suo impiego relativamente ridotto. Nei primi mesi del 1944, le preparazioni, in vista dell'imminente invasione dell'Europa, si facevano sempre più intense, e tra gli elementi fondamentali vi era la necessità di disporre di un mezzo d'assalto pesantemente corrazzato, che potesse affiancare la fanteria durante i vari scontri con le forze dell'asse. Con il rifiuto del T14 e il T26-1 ancora in fase di sviluppo, lo US Army propose di modificare i carri leggeri pesanti già disponibili, adattandoli al ruolo di carro d'assalto tramite l'installazione di un'ulteriore piastra d'acciaio. Modifica, tra l'altro, già portata sul campo in alcune occasioni, andando a rimuovere piastre da Sherman fuori uso e applicandole su altri Sherman, appunto. L'idea di base, in sostanza, era di avere una sorta di stopgap, qualcosa che potesse assolvere il ruolo di carro d'assalto in attesa del T26, ovvero i Pershing. Questa cosa la si può evincere anche dal fatto che si decise di mantenere la denominazione dello Sherman, evitando quindi che lo si identificasse come un mezzo totalmente nuovo. Dopo diversi studi, emerse che l'M4A3 era il miglior candidato per questo impiego, richiedendo la produzione di 254 esemplari e rinominandolo come M4A3E2 nel marzo del 1944. Tra le principali modifiche abbiamo la corazza, infatti sulla parte frontale dello scafo venne sentato un'interiore piastra d'acciaio nello spessore di circa 38 mm, portando lo spessore totale a 102 mm, il tutto inclinato a 47 gradi. Questo porta a uno spessore effettivo della corazza di circa 135 mm. Per quanto lo spessore della parte frontale risultò estremamente elevato a seguito di queste modifiche, il carro non era di certo invulnerabile. Infatti, se andiamo a vedere i valori delle munizioni utilizzate dall'asse, vediamo ad esempio come il 75 mm KVK42L70 del Panther poteva penetrare la corazza frontale di un Jumbo a una distanza di circa 1000-1500 metri, utilizzando le Panzergranate 39-42. Idem per il Tiger, che col suo 88 mm KVK39 era in grado di perforare la corazza frontale di un Jumbo, anch'esso tra i 1000 e i 1500 metri, attraverso l'utilizzo delle Panzergranate 39. Considerando questo e considerando che le distanze di ingaggio in Europa solitamente erano comprese tra i 500 e i 1000 metri, capiamo bene come il Jumbo, nonostante quello che si pensi, grazie a videogiochi come War Thunder, non era di certo invulnerabile. Oltre a incrementare la piastra frontale, venne anche incrementato lo spessore della protezione della trasmissione, che arriverà a uno spessore complessivo di 140 mm. Per quanto riguarda la torretta, si decise di utilizzare una versione più protetta della T23, già utilizzata sugli Sherman armati con gli 76 mm M1. Questa torretta, come abbiamo detto, presentava una maggior corazza, parliamo infatti di circa 160 mm di spessore su tutti i lati della torretta, abbastanza da renderla quasi immune alla maggior parte delle armi anticarro utilizzate dall'asse. Su di essa, inoltre, venne anche montata la cosiddetta Vision Cupola per il comandante, oltre ad una seconda botola per il servente. Per quanto riguarda il complesso del cannone, veniva identificato come M110, ed era una versione modificata dell'M62, già utilizzato per ospitare i pezzi a 76 mm. Si trattava, in sostanza, dell'M62, con una piastra d'acciaio saldata sopra. Nulla di più. Parlando, invece, dell'armamento, inizialmente si pensò di montare i 76 mm. Tuttavia, considerando che la funzione primaria sarebbe stata a supporto alla fanteria, si decise di adoperare i 75 mm M3, un cannone decisamente più versatile rispetto al 76 mm. Va, però, sottolineato che, nonostante questa iniziale considerazione, verranno sviluppati anche jumbo armati con il 76 mm. Ovviamente, tutto questo aumento di peso, che passa da 30 tonnellate dell'M43 standard alle 38 tonnellate del jumbo, ebbe delle conseguenze su quanto riguarda la mobilità. Infatti, la velocità del carro si ridusse a circa 22.000 orarie, pari a più o meno 35 km orari. Interessante notare come, per un certo periodo, si pensò anche di installare sullo scafo dell'M43 E2 la toretta del Pershing. Tuttavia, dopo una breve fase di sperimentazione, ci si rese conto che, a questo punto, era più conveniente avere un Pershing, piuttosto che un ibrido con la torretta del Pershing. Questo era tutto per il video dell'M43. Io spero vi sia piaciuto. Se avete dei suggerimenti, collezioni aggiunte, come sempre, scrivetevele nei commenti. Noi ci sentiamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!